Una mostra dedicata a Vittorio Necchi, alla sua impresa, alla sua città, che sarà inaugurata sabato 17 dicembre, lo spazio Discovery in Piazza Vittoria. Sì, sabato inaugureremo appunto questa mostra che è un connubio fra l'imprenditoria pavese e la vita stessa di tutti i pavesi. Dire Necchi è dire Pavia e quindi dopo un grande lavoro di squadra insieme prima di tutto all'associazione Necchi Pavia Italia e a Iucu che è colui che possiede la memoria storica ma anche i pezzi principali di quelli che verranno appunto esposti durante questa mostra museo. Una mostra museo che terremo fino al 30 di aprile ma probabilmente sarà anche prorogata e che coinvolgerà le scuole per quanto riguarda appunto la cultura d'impresa di cui Pavia è appena stata insignita del titolo per il 2023 di capitale appunto della cultura d'impresa. Mi sento veramente contenta e orgogliosa per questo progetto, un progetto che vede la collaborazione di Asso Lombarda, di Supernova, di Camera di Commercio e ovviamente di Necchi Pavia, dell'associazione Necchi Pavia. Quindi un insieme appunto di forze per dare appunto slancio ancora una volta di più alla nostra città, al turismo e poi di conseguenza al commercio perché l'imprenditoria pavese ha una storia importante che deve essere ricordata o insegnata ai più giovani. Quindi all'interno di questa mostra ci saranno varie opportunità di conoscenza e quindi anche i più giovani potranno venire e scoprire quello che è stata Necchi per Pavia. Questa mostra è stata dedicata appunto alla figura di Vittorio Necchi e a tutto il suo mondo e il suo mondo era Pavia. Ci sono cinque aree tematiche che sviluppano tutto quello che è stata la storia dell'azienda, quindi partiamo proprio dall'Ottocento ancora da quando era una piccola fonderia per poi arrivare ai grandi successi del Novecento. Ci sono appunto, non potevano mancare le macchine per cucire, c'è la prima che è praticamente degli anni venti e poi arriviamo a macchine già degli anni, insomma agli anni Ottanta quando le macchine ormai erano addirittura computerizzate, quindi l'evoluzione dalla meccanica all'elettronica. Tutti i documenti esposti sono assolutamente originali e provengono dal mio archivio, ci sono documenti che vanno dall'Ottocento appunto fino alla fine del Novecento. Cose curiose, ho portato qua dei registri azionari originali che sono molto belli anche a livello di rilegatura, ma soprattutto contengono la firma autografa di Vittorio Necchi. Poi ci sono un biglietto originale degli anni Ottanta della Necchi Pavia Basket, altra cosa il basket che sta nel cuore dei pavesi. E poi bozzetti, fatture e oggetti curiosi che pochi conoscono della Necchi, tipo un vibromassaggiatore, un ferro da stiro, una fila coltelli. Cioè oggetti che sono stati delle prove dell'azienda ma non hanno mai costituito un vero e proprio fiore all'occhiello della Necchi. E proprio per questo sono, oltre ad essere delle curiosità, anche delle cose molto rare. Grazie.